Ora che facciamo? Non possiamo nasconderci sempre! Neanche mimetizzarci! Questa non è l'Africa! Oh, a che serve! Ditemi in che modo degli animali extra large come noi possono riuscire ad attraversare tutta l'Europa senza attirare l'attenzione! Ehi! Voi, da dove spunta voi? Ti prego, devi nasconderci finché le acque non si saranno calmate! Assolutamente niente è strana e quindi leva tuo sorrisetto da facce e sparisci! Oh, andiamo amico! Da una mano a un felino! Da felino a felino! Dammi una mano amico! Andiamo! Solo finché... Nietto! Questo è treno solo per animali di circo! Sì perché sono nei guai! Stefano, noi non invitiamo guai in nostro circo! Non mi fido di leone! Ha capelli troppo gonfi e lucidi! Oh, per favore Vitali, non essere mischino! Lui non leone, è leonessa con capelli cotonati! Imbarazzante! Si sente quello che dicono!